Oggi cari fratelli e care sorelle desidero riflettere insieme a voi ancora sull'argomento del perdono. Nei giorni scorsi ho pubblicato un videomessaggio dal titolo Un perdono che ci conviene e in quel argomento, in quel videomessaggio abbiamo trattato il rapporto tra fratelli. In seguito a quella pubblicazione un caro fratello mi ha scritto in privato e mi ha suggerito di fare un altro videomessaggio dove invece trattare il rapporto tra credenti e non credenti. Come abbiamo detto in quel videomessaggio parlavamo del perdono che bisogna accordare ai fratelli, abbiamo anche detto che è necessario che il fratello che ha commesso l'errore si penta, si ravveda e che comunque è chiamato a chiedere perdono. E abbiamo visto che comunque a noi conviene sempre perdonare perché il non perdonare crea un'ombra tra noi e il Signore e va un po' a pregiudicare il nostro rapporto con Lui, la nostra relazione intima con Lui. Comunque non voglio soffermarmi troppo sulle cose già dette, chi è interessato lo può ascoltare, dove ecco appunto in modo sintetico ho provato a chiarire alcuni punti riguardo al perdono. Oggi vorrei soffermarmi invece a riflettere insieme a voi sul nostro rapporto con coloro che hanno una fede diversa dalle nostre. Come dobbiamo comportarci nei confronti di coloro che hanno una fede diversa? Se queste persone ci hanno fatto del male siamo chiamati a perdonare o a portare rancore? E l'altra domanda è questa, se queste persone non ci chiedono perdono, non si pentono, dobbiamo perdonare o conservare il rancore nel nostro cuore? Io credo che la risposta sia una, in entrambi i casi dobbiamo perdonare. Se coloro che non hanno la nostra stessa fede, ci hanno ferito, ci hanno fatto del male, può essere un marito, una moglie, un parente. Allora se queste persone si pentono e ci chiedono scusa, il Signore ci dice che dobbiamo perdonare. Ma se non si pentono e non ci chiedono scusa, noi comunque siamo chiamati a perdonare, perché anche in questo caso quel rancore creerebbe una barriera tra noi e il Signore, andrebbe a pregiudicare la nostra relazione intima con il Signore. Voglio chiarire subito una cosa molto importante però. Quando si tratta di fratelli della stessa fede, il perdono ristabilisce una relazione e in quel caso si parla di una relazione intima spirituale, perché facciamo parte dello stesso corpo. Nel caso invece di un perdono tra persone che non hanno la stessa fede, ecco si tratta più di un perdono sociale, un perdono che ristabilisce un rapporto sociale, non un rapporto spirituale. Questo credo sia importante chiarirlo. E voglio chiarire anche un'altra cosa, vedete, il pentimento del credente e il pentimento del non credente sono due pentimenti diversi. Noi non dobbiamo mai aspettarci che, diciamo, da quelli del mondo un pentimento uguale al pentimento del credente. Perché sono diversi questi due pentimenti? Perché il credente che si pente ha la consapevolezza nel suo cuore di aver offeso prima di tutto Dio. Se io commetto un maltorto verso un fratello, il mio pentimento è un pentimento di un cuore che è consapevole di aver offeso prima di tutto Dio. Il pentimento del non credente invece non è un pentimento che ha la consapevolezza di aver offeso Dio, è un semplice senso di colpa nei confronti di colui che è offeso. Quindi chiariamo anche che non dobbiamo mai aspettarci lo stesso tipo di pentimento. Andiamo avanti. Adesso vorrei provare a guardare insieme a voi due o tre punti molto importanti. E quali sono questi due o tre punti molto importanti? Sono questi che il Signore ci chiama ad amare i nostri nemici. Come sappiamo uno dei comandamenti del Signore Gesù è quello di amare i nostri nemici. Ora, com'è possibile amare un nemico se nel proprio cuore si serva il rancore? Impossibile. Per questo motivo noi siamo chiamati a perdonare anche coloro che non ci chiedono perdono. Ma notate bene che questo perdono non è un giudicare in modo superficiale il torto ricevuto e non è un passare sopra le colpe. Quando noi perdoniamo un non credente, noi che cosa stiamo facendo? Come primo punto stiamo ubbidendo al Signore che ci ha detto di perdonare e ci ha detto di amare i nostri nemici. Però allo stesso tempo stiamo affidando al Signore il compito di giudicare. Quando noi perdoniamo un torto ricevuto non è che quel perdono, ripeto, è un passare sopra la colpa. È un semplice affidare il giudizio al Signore. Signore, io in ubbidienza al tuo comandamento lo perdono. In molti casi facciamo fatica a perdonare. Allora dobbiamo chiedere proprio al Signore che ci dia la forza di perdonare. facciamo fatica anche ad amare i nostri nemici. È qualcosa di umanamente impossibile. Anche in quel caso lì siamo chiamati a far intervenire il Signore nella nostra vita. Signore, io sono incapace. Aiutami ad amare questa persona che non riesco ad amare. Però allo stesso tempo perdonandoli e amandoli noi rimettiamo il nostro giudizio nelle mani di Dio. Signore, pensaci tu. E questo è buono davanti al Signore. Il Signore non ci ha chiamato a fare le nostre vendette, ma ad affidare a Lui le nostre cause. Quindi se abbiamo ricevuto un torto da qualcuno, noi non dobbiamo fare le nostre vendette e neanche rivestirci da giudici, perché giudicheremmo in modo umano. Il nostro giudizio sarebbe condizionato dai nostri sentimenti. Invece dobbiamo affidare a Dio il compito di giudicare, come vedremo più avanti. Inoltre, vedete, dobbiamo sempre ricordare una cosa, che coloro che ci fanno del male, coloro che noi chiamiamo i nostri nemici, sono delle vittime. Noi dobbiamo sempre ricordarci che dietro queste persone che ci fanno del male c'è Satana. È Satana che strumentalizza queste persone e le usa per fare del male o per rendere la vita difficile ai figli di Dio. Quindi se noi ci ricordiamo che dietro a queste persone c'è Satana, allora vedremo quei nostri nemici con un occhio anche di compassione, di misericordia. Se io so che dietro quella persona che mi sta facendo del male c'è il nemico, quella persona, pur essendo mio nemico, lo vedo con degli occhi, come posso dire, di pietà, di misericordia, di compassione. Questo ci aiuterà ad amare i nostri nemici, a pregare per loro affinché Dio li liberi dal laccio del nemico. Un'altra cosa importante che voglio dire è questa e vado alla conclusione. Il Signore ci dice di amare i nostri nemici, però da altre parti nella Bibbia dice che farà giustizia contro i nostri nemici. Quindi vedete, Egli non è che dimentica i torti che riceviamo, Dio scrive tutto nei Suoi libri, poi sarà Lui a fare giustizia. Quindi qualsiasi torto abbiamo ricevuto da un non credente, anche se questo non ci ha chiesto perdono, siamo chiamati a perdonare. Dio ci dice di amare il nostro nemico e poi da un'altra parte ci dice ci penserò io col tuo nemico, ti vendicherò io, farò io giustizia. E questo è importante che noi ce lo ricordiamo sempre. Lasciare a Lui il compito di giudicare è la cosa più sensata e biblica che possiamo fare. Notate che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, nel capitolo 2, il versetto 23. Qui parla del Signore Gesù. Notate che cosa dice? Dice, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Sta parlando del nostro Maestro. Dice che Egli non rispondeva con gli oltraggi quando veniva oltraggiato. Egli pur soffrendo non minacciava. E' meraviglioso questo verso, dice ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Noi siamo migliori del nostro Maestro? Siamo forse un gradino più su di Lui? No, noi non siamo migliori del nostro Maestro. Quindi se Lui si rimetteva nelle mani del Padre di colui che giudica giustamente, noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo rimetterci nelle mani di Dio. Signore io non faccio minacce a questa persona che mi ha ferito. Non voglio vendicarmi. Aiutami a perdonare e ad amarla. Nonostante non mi abbia chiesto perdono, aiutami ad amarla e aiutami a perdonarla. E pensaci tu, rimetto nelle tue mani ogni giudizio. Questo fece il Signore Gesù, mentre lo bastonavano, mentre lo frustavano. Egli, il profeta Isaia lo descrive come la pecora muta dinanzi a chi la tosa. Dice che non aprì la bocca. Egli sopportò l'insopportabile. Soffrì e non minacciò nessuno. E di fronte agli scherni non rispose con lo scherno, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Questo è quello che dobbiamo fare anche noi. E questo risponde anche ad alcuni commenti che ci sono stati sotto a quel messaggio di alcuni fratelli, alcune sorelle che hanno avuto dei torti pesanti, dove dicevano giustamente, umanamente parlando, io non riesco a perdonare questo torto, non riesco a perdonare questo male subito. È vero, umanamente impossibile. Ed è per questo motivo che dobbiamo chiamare in causa Signore Gesù. Signore, io non riesco a perdonare questa persona. Vivi tu dentro il mio cuore affinché io possa perdonarla. Non riesco ad amare questa persona. Anzi, guarda, se fosse per me, gli farei, non ti dico cosa gli farei. Aiutami tu ad amare questa persona. E rimetto nelle tue mani tutti i torti che ho subito. Sii tu il giudice tra me e loro. Questo deve essere il nostro atteggiamento, fratelli. E concludo sperando di aver risposto in modo chiaro questi pensieri, che voglio rispondere alle domande iniziali nuovamente. Come dobbiamo comportarci nei confronti di coloro che non hanno la nostra stessa fede, se ci hanno fatto un torto? Se ci chiedono scusa, il loro non sarà mai un perdono con lo stesso pentimento nostro, perché non avendo timore di Dio non possono porsi il problema ad aver offeso Dio. Quindi se ci chiedono scusa, li perdoniamo. Se non ci chiedono scusa, li perdoniamo lo stesso. Perché? Perché quel rancore farebbe del male solo a noi. Il rancore diventerebbe, come abbiamo detto, un peso sul nostro cuore, una gabbia per la nostra mente e un velo, un'ombra che si interpone tra noi e il Signore, nel nostro rapporto. E siccome noi ci teniamo ad avere una comunione intima con il Signore trasparente, non vogliamo che ci siano ombre. Perciò togliamo via ogni rancore e questo sicuramente porterà beneficio prima di tutto a noi stessi. Spero di aver spiegato in modo bene questo argomento e ringrazio tutti voi per la vostra attenzione. Che il Signore ci benedica.